Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Non fu un esordio fortunato in Serie B per Gianluca Viagli allo stadio Ballarin di San Benedetto del Tronto con la sua Cremonese. Era la terza giornata del girone di andata del campionato 1981-1982. La Samb si impose per 3-0 con reti di Moscon, Ragneri e Rossinelli. Ed è proprio Bruno Ragneri a ricordare Viagli nel suo battesimo tra i cadetti. Noi appena lo vedemmo scendere in campo diciamo ma chi è questo ragazzino? Poi dopo quella mezz'oretta che lui ha giocato ci rendemmo subito conto che era un ragazzo dalle grandi dote. Personalità di più perché un ragazzo a 17 anni è sordito in Serie B sull'1-0. Poi io ho fatto il gol del 2-0 e Rossinelli che era entrato nella ripresa ha chiuso la partita sul 3-0. Ma questo ragazzo ripeto aveva delle dote fuori dal comune perché prendeva palla senza remore. Lui era come se giocasse con la primavera della Cremonese o della Sampdoria dopo diciamo. Era un ragazzo che ispirava già fiducia nell'allenatore se no che era Vincenzi il vecchio che disse la Samerettese ci ha preso a pallonata. Cercava un attaccante ma l'attaccante ce l'aveva in casa. Infatti dopo giocò sempre lui titolare e la Cremonese fece dei buoni risultati. Anche perché poi nella gara di ritorno la Cremonese si impose per 2-0 e un gol fu realizzato da Gianluca Viali. Sì, un gol fu realizzato da Gianluca Viali e non so se è il primo sul rigore causato proprio da lui. Io oggi il mio amico Bogoni mi ha mandato un trafiletto di un giornale di Cremona dove dava risalto a Viali. Un giovanissimo Viali su quella foto e sullo sfondo dietro ci sono io. Io neppure mi ricordavo di questa foto però è stata una cosa bella essere vicino a un grande uomo come Gianluca Viali. Cosa perde il calcio italiano con la scomparsa di Gianluca Viali? Non solo il calcio italiano perde una grande persona di umanità bellissimo, grandissimo giocatore non sta a me neppure descriverlo come calciatore ma una persona di una umanità, di una gentilezza con i suoi compagni.